ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video giochiamo contro javier manalur statunitense ok come vedete ho perso un po di punti perché perché ho perso un sacco di partite in questo periodo e devo un po risalire di punteggio quindi per risalire un po dovrò fermarmi meno nelle spiegazioni e magari essere un po più superficiale e dopo magari un giorno prenderò un nuovo account e farò una nuova scalata così da avere partite con avversari un po più soft in cui posso spiegare un po meglio e ok quindi torniamo agli scacchi sto gioco infame e ok questa qua è un'apertura italiana qua ci sono queste due sono le principali risposte le mosse che dovrebbe giocare il nero secondo me cavallo f6 qua d3 è la mossa principale cavallo g5 è il cosiddetto fegatello quindi una variante diciamo che può dare delle chance di vincere al bianco soprattutto a basso livello ad alto livello si prova ma con meno ambizioni invece d3 è la mossa che introduce adesso non so bene la nomenclatura di queste cose perché 5 non l'ho mai giocata in torneo però questo dovrebbe essere il gioco piano il gioco il gioco piano e dopo al fere c5 cavallo c3 non deve essere la mossa principale ora non appunto non sono un grande fan di questo genere di approccio ma il cavallo in c3 dovrebbe essere dovrebbe stridere un po' con la posizione del bianco che vorrebbe giocare c3 col pedone per dopo reagire al centro con d4 quindi h3 questa è una mossa importante e però qua ci sono tutta una serie di sottigliezze infinite da conoscere sia col bianco che col nero che io non conosco naturalmente ad esempio questa a6 io so che si fa per poter ritirare l'alfiere però non so esattamente in che in che condizioni farle la posizione sembra molto simmetrica e di fatti lo è e ok facciamo qualche mossa utile ad esempio il cavallo cavallo in c6 io lo voglio togliere per per giocare c6 e poi magari d5 quindi fare quello che dovrebbe fare lui in in contromossa quindi cavallo e7 ad esempio cavallo g6 qua starà molto bene il cavallo e addirittura d4 ok ok fair enough d4 questa è la 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 mossa la mossa che a cui il bianco dovrebbe puntare però dovrebbe puntare a a poter reagire a a per di con c per di questo dovrebbe dovrebbe essere da 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 canoni classici poi ovviamente vale tutto ma questo non dovrebbe essere il modo più ambizioso di giocare per lui portiamo comunque il cavallo in g6 da dove sta bene ok qua mi riservo la possibilità di di dire qualche cagata nel senso io di queste posizioni non conosco le sottigliezze quindi potrebbe essere che sia un piano del tutto giocabile per il bianco ma a me non non fa impazzire tra l'altro di questa cosa parla tanto nimzovic nel suo famoso libro il mio sistema ed ha proprio come questo genere di posizioni dice che proprio il nero è ben organizzato in una reazione contro il pedone centrale sfruttando la colonna semi aperta che si è appena venuta a creare a maggior ragione se il bianco deve giocare f3 con anche h3 quindi guardate le case scure del bianco attorno al suo re saranno molto deboli e qua posso già iniziare a pensare in grande o a una reazione centrale con d5 sfruttando il fatto che l'alfiere è in una posizione molto precaria o anche a occupare queste case molto avanzate attorno al re bianco che mi danno delle possibilità d'attacco anche abbastanza violento come attacco quindi cavallo h5 penso che sia la mossa da fare qua donna d2 lui cerca di mettere una pezza su queste case scure ma tra l'altro qua il nero potrebbe comunque giocare cavallo f4 su alfiore per f4 cavallo per f4 se la donna mangia rimane questo appeso ma la mia intenzione non è quella di cambiare i pezzi qua sicuramente cavallo f4 sarebbe una mossa fattibile però vorrei essere un po' più ambizioso ad esempio donna h4 portiamo la donna da questa parte e sosteniamo il cavallo che arriva in f4 qua alfiore g5 può essere una mossa che spaventa ma su alfiore g5 l'alfiere lascia il centro e ho alfiere per d4 su donna per d4 mangio l'alfiere quindi alfiere f2 questa è una mossa che non so perché speravo che non potesse fare ok forse è stato un pensiero stupido e basta quindi ok allora donna h4 ritratto completamente perché perché qui qui se devo fare cavallo g3 vuol dire che c'è qualcosa che è andato storto che su cavallo g3 ad esempio cavallo e2 non è che mi faccia proprio super impazzire sta posizione quindi devo cercare di adattarmi a questa mini svista su donna f6 che pure andrebbe bene c'è cavallo d5 purtroppo che mi fa perdere altri tempi quindi meglio evitare donna f4 anche questa la vorrei evitare perché il cambio delle donne qua mi penalizza un po' secondo me tornare in d8 sarebbe ridicolo sarebbe assolutamente ridicolo proviamo a vedere cavallo g3 cavallo e2 cavallo per e2 scacco con cosa rimangia mettiamo che rimangi di donna mangio qua inchiodo l'alfiere rimangia con l'alfiere cavallo f4 donna f2 mi sa che ho cambiato un po' troppi pezzi qua per avere un attacco credibile però è quello che passa al convento ormai cavallo g3 no ma cavallo g3 possono succedere cose troppo troppo brutte purtroppo tipo donne 1 no non mi fido non mi fido a giocare queste cavallo g3 o pensarci un attimo spero che vada tutto bene e gioco cavallo g3 ma è una speranza sono molto ok ok se gioco a torre 1 ok una mossa per stabilizzarmi qua ho anche cavallo f4 quindi ok gioco cavallo f4 per piazzare tutti i miei pezzi sulle case scure ok cavallo g3 sembra in realtà molto forte ma di fatto se andiamo ad analizzare cosa sta facendo non sta controllando le case troppo produttive ed è un po' un peso morto nel senso che è più un problema che non qualcosa di positivo cavallo d5 vedete che lui va a eliminarmi il cavallo che è il cavallo potenzialmente più pericoloso e qua vorrei vorrei giocare delle mosse veloci per esempio cavallo per g2 wow si è perso cavallo per g2 alfiere per g3 no funziona tutto ok perfetto è stato molto fortunato in questa partita forse anche cavallo per h3 forse funziona sembra sembra che l'attacco del nero sia arrivato a un punto ottimo ok vediamo calcoliamo i sacrifici con questo cavallo per esempio cavallo per h3 a questo punto g per h3 è l'unica mosso ad analizzare donna donna per h3 quindi questi due non ci sono più a questo punto minaccio matto con donna h1 l'unica mosso seria alfiere per g3 donna per g3 scacco e e qua se la donna si sposta minimo minimo cade il cavallo che rimane in presa se giocare f1 ok secondo me arriva l'alfiere con scacco e qualche modo ci sarà matto se gioca invece rh1 posso salire con la torre e dargli matto in questo modo qua quindi cavallo per h3 sembra abbastanza convincente quindi la giochiamo cavallo per h3 speriamo che 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 vada tutto bene ok non so bene cosa stia pensando perché perché mi sembra mi sembra l'unica g per h3 non è che abbia altre mosse l'unica altra mossa legale era h2 ma ok si commenta un po' da sola donna per h3 alfiere per g3 fino a qua tutto come previsto donna per g3 scacco vedete che se la donna arriva a coprire cade il cavallo la donna qua sta facendo un lavoro importante sur h1 sur f1 era quella che era un po' più in dubbio sur h1 secondo me l'arrivo della torre fa fa una differenza enorme vedete che arriva torre e5 il nero ha investito solo un pezzo per questo attacco clamoroso e speriamo che basti ok cavallo f5 ma qua qua si vince anche con con relativa calma perché adesso è arrivato anche l'alfiere ora l'alfiere ha un raggio più lungo donna h3 per esempio donna h2 donna per f3 donna g2 speriamo che che si concluda presto sta cosa se no rischio di di perdere di tempo e farebbe abbastanza ridere ok eliminiamo sto cavallo e ok perché lui dice su torre per f5 ti do questo doppio qua simpatico ok dai mossa del ko qua dai che la troviamo mossa del ko potrebbe essere alfiere f2 minacciando matto con donna h3 a quel punto alfiere f1 unica però c'è donna g1 ok perfetto quindi questa è la mossa che fa il caso nostro alfiere f2 quindi mossa di interferenza diciamo interferisce con la possibilità della donna di difendere quindi questa alfiere f2 non è minimamente collegata all'attacco della torre che è un attacco che ho realizzato in questo momento ma esatto minaccia donna h3 matto su alfiere f1 si interrompe la la difesa della torre e quindi segue donna g1 quindi ok l'attacco alla fine è andato anche a finire bene però secondo me donna h4 è un errore quindi andiamo a vedere l'analisi lui è stato decisamente troppo troppo soft nella difesa non ha non ha capito i pericoli che stava correndo effettivamente sul suo re quindi cavallo f6 d3 fino a qua tutto ok cavallo c3 sono abbastanza certo esatto è la terza mossa più giocata dopo c3 e arrocco qua cavallo c3 d6 h3 a6 ok a6 l'ha giocata pochissima gente quindi sarà una mossa inutile a3 cavallo e7 d4 e per d4 cavallo per d4 il motore dà una leggera preferenza al bianco ma qualcosa di molto simbolico su cavallo g6 arrocco arrocco qua una parità abbastanza abbastanza tranquilla al fiere d3 torre 8 vedete che il nero riesce a organizzarsi contro contro il pedone il pedone e4 qua f3 è una mossa che secondo me diciamo inizio inizio a stare meglio dopo questa mossa infatti è così cavallo h5 è la mossa più forte dà un vantaggio molto piccolo al nero però la percezione è che tutte queste debolezze sul lato di re si faranno un po' sentire e si sono fatte sentire parecchio in partita donna d2 non compare fra le prime tre scelte del motore la donna h4 che comunque non è non è male secondo lui ok da sempre parità al fiere f2 e addirittura cavallo g3 meno 1 ok questa è una cosa che mi sorprende parecchio perché ero convinto che questo fosse un problema che lui potesse avere tutte queste iniziative ma la realtà è che forse la posizione precaria del cavallo in d4 mi garantisce un po' di stabilità anche qua quindi ok fortunato però vabbè qualcosa è andato per il verso giusto dopo torre 1 cavallo f4 il nero è un attacco decisivo meno 2 addirittura dopo cavallo d5 questa qua è la goccia che fa traboccare il vaso o la scintilla che fa traboccare la goccia come dicevano i grandi cavallo per g2 è la mossa più forte ma anche cavallo per h3 dà un vantaggio decisivo g per h3 donna per h3 qua l'attacco si gestisce un po' da solo donna alfiere per g3 donna per g3 e andiamo a vedere cosa sarebbe successo su f1 che anche anche il motore la individua come scelta più resistente e addirittura qua wow qua incredibile che il nero qua ha vantaggio decisivo dopo una mossa tipo c6 e alfiere e6 quindi non non caga più il re è semplicemente il computer dice che il re non sarà mai al sicuro qua e giocare mosse normali garantirà un vantaggio più avanti anche con torre e5 con manovre di questo tipo con calma il computer se la gestisce così ok interessante re h1 invece tutto più facile perché arriva la torre direttamente torre e5 ora dopo cavallo f5 alfiere per f5 e alfiere f2 è la mossa più precisa per concludere la partita vediamo ad esempio l'opzione più resistente per il bianco era donna f4 che io ovviamente non avevo considerato però ok qua la torre potrebbe essere un fattore perché anche semplicemente mangiarsi la torre forse è più che sufficiente ma donna h3 donna h2 donna per f3 arrivano tutte un po' con scacco e addirittura esatto la scelta pragmatica cambiare le donne e andarsi a a vincere questo comodo finale con una qualità e un quintale di pedoni di vantaggio è buono ok spero che vi sia piaciuta questa partita ci vediamo domani per un'altra partita brutta e mi raccomando continuate a seguire il canale e supportateci e sopportateci soprattutto ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.